Ciao ragazzi, oggi anguilla e forno, massa buona! Prendiamo un'anguilla già pronta, lavorata, aperta e viscerata di pescaori, carta da forno su una teglia, goccio d'olio di quello buono, mi raccomando, e andiamo ad adagiare la nostra anguilla. Aggiungiamo qualche fogliolina d'alloro, picchiettino d'aglio, sale e pepe, ancora un goccio d'olio e inforniamo a 160 gradi per 40 minuti col forno già caldo. Passato il tempo, la nostra anguilla è pronta, sì o no? La pelle deve diventare croccantissima come una chips. Aggiungiamo prezzemolo fresco e mamma mia ragazzi, che spettacolo! Sentite che sound? Massa buona! Beh a questo punto se vi è piaciuto il video mettete un like, ciao!